A Sorrento, come in tutte le maggiori località turistiche campane, è ripartita la stagione in vista di un'estate che si preannuncia da record. Le prove generali sono state con la Pasqua, oggi prosegue la stagione sempre in crescendo, come noi auspicavamo e come si sta dimostrando. Viviamo ancora dei problemi risolti, come i problemi purtroppo del traffico e viabilità, problemi della cibo mesuviana che dà ancora difficoltà. E ci stanno anche problemi con gli accosti marittimi, che si sta sempre in certezza e si stanno grossi di tardi. Anche il maestro Gerardo Sacco, che in passato creò i gioielli per la Cleopatra, impersonata da Liz Taylor, è in mostra a Sorrento e realizzerà una linea di gioielli dedicata alla città della penisola. Per incrementare l'offerta turistica e culturale del Comune e della Fondazione Sorrento, abbiamo deciso di iniziare un ciclo dei grandi artigiani del Made in Italy che hanno fatto grande il nostro paese nel mondo, tra i quali avremo Gerardo Sacco, le cravate di Marinella, l'Intarsio Sorrentino e la mostra sui corali di Torre del Greco. Grazie.